Come Regione Abruzzo, ma come anche altre Regioni, siamo chiamati entro la fine dell'anno a definire e a legiferare sulle aree idonee. È un progetto molto ambizioso perché comunque da una parte abbiamo i target che l'Europa impone alla Nazione Italia e di conseguenza la Regione Abruzzo. Noi abbiamo quindi l'obiettivo che da qui al 2030 dobbiamo quindi aumentare, avere un incremento di potenziale di fondi energetiche rinnovabili di oltre 2 gigawatt. Dall'altra parte c'è da tutelare quelle che sono le nostre risorse naturali, le nostre risorse ambientali. È un compito non semplice, siamo chiamati quindi a trovare quel giusto equilibrio tra quella che è la tutela della nostra terra e la produzione di energia della fonte rinnovabili. Abbiamo creato un gruppo di lavoro, stiamo lavorando in modo coordinato, c'è una grande professionalità all'interno di questo gruppo di lavoro, i vari dipartimenti della nostra Regione e diciamo c'è insieme ad Anci proprio per ascoltare quelle che sono poi anche le esigenze dei comuni e dei vari territori. Quindi è un lavoro importante ma noi come Regione Abruzzo stiamo facendo la nostra parte.